Incidente nella mattinata di sabato 31 dicembre poco prima delle 10 sulla strada provinciale 565 Pedemontana all'altezza di Salassa, coinvolte due vetture, una Lancia Y, una Citroen C3 e un furgone per traslochi. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Castellamonte, l'ambulanza della Croce Rossa e l'elisoccorso del 118, i lesi i conducenti della Citroen e del furgone, ferita invece la donna, classe 1976, che era a bordo della Y. Dopo le prime cure è stata trasportata in ambulanza all'ospedale di Vrea. La dinamica del sinistro è al vaglio dei carabinieri di corne.